Ho sognato per molto tempo questo momento ed ora che è arrivato non so cosa dire. Come spesso accade, davanti all'emozione rimango senza parole. È da circa un anno e mezzo che lavoro a questo progetto segreto. Un progetto che mi ha rivoluzionato internamente, che mi ha messo alla prova, che mi ha permesso di conoscermi meglio e mi ha regalato emozioni fortissime. Ho provato quel fuoco interiore che senti poche volte nella vita. Quando ad esempio sei innamorata oppure quando succede qualcosa di importante ed unico. Ho scritto un libro ed eccolo qua, in anteprima. Consigli da amica è il libro che ho sempre sognato di scrivere. Durante questo tempo di stesura del manoscritto sono successe un sacco di cose. Dalla pandemia ad episodi legati alla salute dei miei genitori. Eventi che mi hanno messo a dura prova e hanno lasciato indelebili cicatrici nel mio cuore. Onestamente non so nemmeno come ho fatto a portarlo a termine. Forse col senno di poi potrei dire che il libro è stato la mia ancora di salvezza. Consigli da amica è un libro che ho voluto fortemente. L'ho cercato, l'ho desiderato. È la mia creatura. L'ho voluto esattamente così. Bello, romantico, con tutti i colori e le forme che rimandano alla mia amata natura. Ma soprattutto ricco di preziosissimi consigli per noi donne. E per coincidenza, o meglio dire per sincronicità, questo libro è potuto venire alla luce solo grazie alla collaborazione di un team di sole donne. Le ragazze, le amiche di EPC Editore. Quando Laura ha dato l'ok alla mia idea mi sono sentita più felice che mai. Il libro contiene diversi consigli relativi alle varie dimensioni della vita di una donna. Mi è piaciuto paragonare la donna a un diamante dalle mille sfaccettature. Ogni faccia della gemma rappresenta una dimensione. Ho pensato di parlare quindi di diversi argomenti. Del ben vestire, dell'eleganza, delle buone maniere, dei colori. Ma anche e soprattutto della casa e della bellezza. Ma non solo. Nel libro troverete tanti racconti legati alla mia vita personale. Con degli episodi, degli errori che mi hanno permesso di imparare moltissime cose. Non si tratta quindi di un semplice manuale con delle nozioni. È un vero e proprio percorso nella mia vita personale. In questo libro c'è la mia anima. E sono certa che mentre lo leggerete, nella vostra mente potrete sentire la mia voce. Inoltre, diversi disegni sono stati creati da me personalmente. E nella sezione dedicata all'adolescente, mia figlia Ginevra mi ha aiutato, mi ha dato dei consigli per la realizzazione dei figurini. A maggior ragione è un libro totalmente femminile. Ma se devo essere onesta, è un libro che anche gli uomini, secondo me, leggerebbero volentieri. La copertina è qualcosa di straordinario. Sono davvero felice di aver collaborato con Valentina Scagnolari, illustratrice e youtuber in arte conosciuta come Fantasvale. Vi metto qui sotto i suoi contatti. Quando mi ha dato l'ok, quando mi ha detto ok farò la tua copertina. Mio marito potrà confermare ero al settimo cielo. La sua bravura, unita alla sua dolcezza, hanno creato questo bellissimo ritratto. Per non parlare dei meravigliosi fiori ad acquarello, realizzati ovviamente da lei, che potrete trovare in tante parti del libro. Ma anche in questi specchietti, che verranno dati in omaggio a tutte le ragazze che prenoteranno in anteprima il libro. Oltre allo specchietto, ovviamente riceverete la vostra copia firmata da me. Parliamo di questi meravigliosi specchietti. Ho pensato fosse carino realizzarli in tre diverse varianti. Quindi non solo uno specchietto. Ovviamente ragazze, il mio preferito è questa Dalia Rosella. Trovo che sia un accessorio meraviglioso da tenere nella taschina della nostra borsa. Sono specchietti che indistruttibili. Io pensavo che per il fatto che non avessero la chiusura potessero rigarsi o rompersi. Invece sono eterni. Quindi abbiamo la Dalia Rosella. Poi abbiamo quest'altra variante, questo bellissimo bouquet di rose. E poi la Rosellina singola, che è qualcosa di davvero romantico. Sotto ovviamente c'è l'hashtag ufficiale, consigli da amica. Quindi voi potrete usare questo hashtag, consigli da amica, per fotografare citazioni del libro o anche alcune illustrazioni. Quelle cose che vi ispirano e volete condividere il libro con le vostre amiche, potrete usare questo hashtag, consigli da amica. Ovviamente io voglio vedere anche i vostri specchietti. Una cosa importantissima da sottolineare. Riceverete il libro autografato più lo specchietto, uno delle tre varianti, in omaggio solo se acquisterete da oggi fino al 30 settembre il libro in prevendita sul sito ePC. Probabilmente il libro sarà in prevendita anche su altri siti, Amazon compreso. Però se lo acquistate in prevendita su altri siti, non riceverete ovviamente lo specchietto maggio né il libro autografato. Sto pianificando di andare a Roma per autografare tutti i libri per voi, quindi sono emozionatissima. Non so davvero come affrontare questo video. L'ho registrato sei volte. Spero che questa sia la volta buona perché non voglio fare scenate e emozionarmi davanti alla telecamera perché è qualcosa che proprio non sopporto. Mentre il libro uscirà ufficialmente in tutte le librerie, sia fisiche che online, quindi su Amazon, su EPC Editore e in generale in tutte le migliori librerie il primo di ottobre. Quindi ragazzi io vi metto tutte le informazioni giù nel box. Se avete qualche dubbio ovviamente scrivetemi. In ogni caso in descrizione trovate tutte le informazioni necessarie e i link. E dulcis in fundo ragazzi, la cosa più importante. Sapete che io alla fine dei miei video metto poi il contenuto che secondo me è più importante di tutti. Questo libro esiste solo grazie a voi. E quindi io vi ringrazio per aver creduto in me in tutto questo tempo, per avermi dato un dono sociale importantissimo che è quella buona fetta di autostima che io non avevo. Ed è solo grazie a voi se oggi sono riuscita ad arrivare ad un importantissimo traguardo che è il portare a termine un progetto così importante. Anche solo il fatto di averlo portato a termine per me è una grande vittoria. E quindi grazie di cuore davvero ragazze per tutto quello che voi avete fatto per me in tutti questi anni. Anche alle ragazze che mi seguono da poco. A volte basta solo un messaggio, un sorriso, un ciao, un grazie, un come stai. Per me valgono tantissimo. E quindi grazie di cuore a tutti voi e alle mie speciali seguaci che hanno creduto in me fino ad oggi. Se avete qualche dubbio contattatemi dove volete anche in privato su Instagram ma anche su Facebook. Mi raccomando non perdete questo libro che davvero sarà molto utile per la vostra vita. Consigli da amica. Consigli da amica.